In position, set. In position, set. Anche in questo caso praticamente identici partiali al metà giro. 18,808 per Annibale Sanzorgi, 18,815 per Filippo Salvalaio. In position, set. Le televisione davanti alla treta della Paternese, vediamo le conferme sull'altinale. Andiamo, andiamo! 18,878 per Tommaso Mascazzini, 18,936 per Annabinano Sanzorgiando. In position, set. Parziali, davvero! In fotocopia vediamo i tempi finali. 18,333 per Leonardo Posti, 18,593 per Leonardo Stessotto. Sette. Vediamo il trovo finale. 18,418 per Cristiano Manzotti, 18,495 per Luca Siviglia. Sette. Via, 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 via! Via, via, via! Via, 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 via! Via, 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 via! Via, 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 via! 18,069 per Cristiano Scasellati, 18,173 per Francesco. Vengalo!